Il Convento degli Agustiniani è un'antica mura, in prossimità dell'abitato. La sua realizzazione risale al 1638, a firma del celebre capomastro Francesco Manuli di Corigliano d'Otranto. Magnifiche sono le scolpiture della facciata della chiesa del Carmine, indice della bravura dello scalpellino leccese Giuseppe Zimbalo, detto Lo Zingarello. E' un fondersi di armonie geometriche e floreali, scosse e movimentate da un intenso dinamismo barocco. Il complesso conventuale per secoli è stato animato dalla comunità dei padri agostiniani, affermatasi a Melpignano già dal Cinquecento. La casa conventuale fu una delle più importanti della Puglia e fu attiva nell'educazione dei giovani e nel processo di latinizzazione e romanizzazione del culto religioso. Soppresso nel 1809, con l'applicazione delle leggi napoleoniche, il convento fu destinato alla pubblica fruizione. Oggetto di un consistente restauro conservativo, recentemente il complesso architettonico è ritornato a fiorire in una nuova cornice culturale. Lo spiazzo antistante al convento, ogni estate, fa da scenario al concertone della Notte della Taranta, la kermessa lentina più famosa. La notte della Taranta, 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 la notte della